Buon salve a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video, a questo nuovo trailer reaction e analisi dedicato a Phantom Blade Zero, un titolo che ha fatto parecchio parlare di sé fin dai tempi dell'annuncio. Non so se ve lo ricordate, venne presentato al PlayStation Showcase del 2023 e agli occhi di tutti sembrava un gioco tanto incredibile quanto falso ludicamente, nel senso che quel gameplay con quei movimenti di telecamera, con quel combat system, appariva finto, appariva strano. E infatti poi il gioco si è rimostrato successivamente alla Summer Game Fest 2024, mi sembra che fosse stato proprio l'ultimo annuncio dell'evento, in uno stato molto diverso, cioè a quel punto sembrava un gioco vero, ed è lì che mi sono detto, ok adesso ha effettivamente il mio interesse. Il titolo è sviluppato dalla società S-Game Studio, che è un'altra compagnia cinese, oramai veramente la Cina, Cina, Corea del Sud, Giappone, stanno conquistando il mercato, e io non ne sono così dispiaciuto perché sta uscendo un sacco di roba incredibile, qualità, speriamo che anche questo possa essere uno di quei giochi, e dovrebbe essere un titolo basato, come al solito, sulla mitologia cinese, con creature che rimandano a quell'immaginario, e questo samurai senza macchie e senza paura che va in giro ad ammazzare mostri, ad affettare demoni. Recentemente è uscito un nuovo trailer gameplay, non dura neanche troppo, quattro minuti, ma sono quattro minuti densi di combattimenti, dovrebbero far vedere degli scontri con dei nemici a caso, e anche con alcune boss fight e mi son detto vediamolo, vediamo un po' di gameplay perché ancora voglio capire un po' come hanno strutturato il tutto, anche perché c'è da parlare un pochettino sul team, ma di questo parleremo dopo. Quindi signori, non perdiamoci in chiacchiere, 3, 2, 1, via! Subito combat, secco, violento. Ammazza se è veloce comunque, le parate che ha fatto. Ostia vacca! Già vedo diversi armi, c'era lo stealth perché il nemico l'ha colpito da dietro, guarda che roba! Allora è molto spettacolare, molto esagerato, c'è chiaramente la stamina dei nemici, o la stabilità che se riuscite a togliergliela potete fargli finishere e quant'altro. Minchia! Ma è velocissimo il gameplay! Ok, con il salto più orribile del mondo, ma è velocissimo il gameplay! C'è tantissimo lavoro di parata e schivata. Vabbè, l'ha sciolto, l'ha sciolto. Bello che gli ha lanciato la bomba, l'ha presa al volo e gliel'ha rilanciata. Ostia! Altra boss fight. Pure la colonna sonora. Ci sono chiaramente gli attacchi blu che sono quelli parabili, credo che gli attacchi rossi siano quelli che bisogna schivare. Che si illumina il nemico. Bastanza classico. No, più che altro, devo dire, mi aspettavo... Allora, dall'ultimo trailer il sistema di combattimento sembrava molto più... Guarda, donna tanta. Il sistema di combattimento sembrava molto più lento, e invece è velocissimo. C'è un sistema di schivate... molto incasinato. sembra una cacciaronata, però sembra presentare anche un certo grado di... di strategia sul... aspetta l'attacco nemico, aspetta, schiva, attacca, aspetta, schiva, attacca. Perché questo... questo è uscito direttamente da... da Blasphemous. Ah, questo tra l'altro era un... era il boss che si vide nel primissimo trailer. Anche un po' di interazione ambientale abbiamo visto. Sembra esserci tanta carne al fuoco. Bisognerà capire quanto di questo prodotto è fumo e quanto è effettivamente arrosto. Perché visivamente è molto... spettacolare. Però è una spettacolarità supportata da un gameplay sufficientemente strategicato. Sono una valanga di schivate, di attacchi, armi diverse. Tra l'altro con moveset diversi. carino, ok. Massagrado. Figo, cavoli. veramente, ma veramente, ma veramente figo. Grazie a PlayStation. Veramente, ma... ma veramente, ma veramente figo. Ho qualche dubbietto sparso qua e là. Però... devo dire che quanto ho visto mi ha... mi ha stupito positivamente. Tra l'altro mi sembra che rispetto all'ultimo trailer siano tornati a fare un passo in avanti in termini di spettacolarità e velocità del gameplay. perché mi ricordavo che l'ultimo video mostrato fosse un pochettino più... più contenuto nella velocità. Invece qua, che poi è gameplay effettivo e si vede che il gioco è veramente veloce. Anche se per l'appunto bisognerà capire quanto questa velocità verrà supportata da un gameplay all'altezza. Cioè, di nuovo, non vorrei che fosse tanto fumo negli occhi e poi la struttura ludica e premi quadrato all'infinito e tanti saluti. mi ha intrigato, devo dire... Ci sono degli elementi che mi hanno lasciato un attimo... del tipo... la telecamera ogni tanto l'ho vista un po' incasinata. Cioè, la velocità dell'azione bisognerà vedere se riusci... se sarà così veloce da farti capire bene quello che succede in game. In realtà dal gameplay sembrava comunque sia che fosse tutto abbastanza leggibile però con tanti nemici tutti assieme sarà da capire effettivamente quanto l'azione sarà facilmente leggibile mi immagino che potrebbe essere un casino con qualche boss un po' più grande o quando ci sono grossi gruppi di nemici che ti attaccano tutti assieme. Non mi ha fatto impazzire la palette cromatica delle ambientazioni. Cioè, per carità, abbiamo visto le arene di tre boss praticamente o tre mini boss e comunque tre arene abbiamo visto. Però se ci fate caso erano tre arene tutte uguali con la stessa palette cromatica con due colori molto scuri e poco altro pure i nemici che si sono intravisti non erano nulla di che in termini di character design apparivano come... come nemici basi molto semplici non brutti ma neanche che dici ah, che figata. la cosa che un pochettino mi preoccupa è di nuovo è la solita questione del team di sviluppo ovvero che parliamo... Allora, in questi ultimi anni abbiamo visto tanti team di sviluppo che sono apparsi dal null che non hanno mai sviluppato niente che ti tirano fuori delle perle guardate anche solo recentemente con Lies of P e Wukong questo team in particolare in realtà non è al suo primo progetto Yes Game quando venne annunciato per la prima volta a Phantom Blade Zero andai a farmi un controllino nei confronti del gioco perché volevo vedere un attimino chi è che stesse sviluppando il titolo Yes Game Studio sono una compagnia cinese per l'appunto che ha lavorato ad alcuni giochi mobile e uno in particolare era pure stato un gioco mobile mezzo scam perché avevano venduto il gioco su mobile poi a metà hanno interrotti i lavori la gente ci stava giocando l'aveva pagata e poi si è ritrovata con nulla in mano e questo mi aveva fatto un po' temere che ci trovassimo davanti al classico vaporware buttato lì sì guardate che figata ma tanto non l'avrete mai invece invece il gameplay mi ha ridato tante speranze tante speranze in tutto questo ricordiamoci che parliamo di un action stylish game il team ci ha tenuto specificatamente a precisare che non vuole essere un titolo alla Souls e soprattutto non vuole essere un titolo frustrante allora hanno detto una frase molto molto divertente ma anche molto vera ovvero noi non possiamo permetterci come From di frustrare i giocatori che è effettivamente molto vero è pericolosa come frase da dire al pubblico però effettivamente pochi giochi hanno quella presa sul pubblico come ce l'hanno i giochi From Software che ti permetta di dire ok sono morto venti volte contro un boss lo voglio comunque riaffrontare finché non vado avanti perché il gioco From mi piace loro hanno affermato che il gioco sarà comunque offrirà un suo livello di sfida ma non vuole essere un muro invalicabile che ti fa impazzire e a me va benissimo adesso so che la sfida è sempre apprezzata e anche la sfida ai giochi Souls-like ai giochi From è sempre apprezzata però è bello anche ogni tanto divertirsi e basta e sembrava un gioco molto divertente il team aveva anche specificate tempi che non ci saranno acquisti in game microtransazioni che il titolo vuole essere un single player puro bisognerà vedere quanto sarà varia l'esperienza nel senso se è un gioco in cui si combatte e basta devi comunque crearne un combat system che si arricchisca sufficientemente col tempo immagino con nuove armi nuove abilità se ne erano già viste parecchie comunque tra spade leggere le spade pesanti si è visto un pizzico di stealth si è visto l'arco si è visto il cannone il lanciafiammi cioè una bella quantità di armi sembrava ancora sporco la cosa è questa sembrava ancora generalmente sporco con la necessità di tante ripuliture però va detto che parliamo di un gioco che forse uscirà nel 2025 e da quanto visto comunque sembra già a un ottimo punto perciò sì sono fiducioso sono speranzoso o quantomeno sono interessato fatto sta ragazzi che questo era tutto ciò che avevo da dirvi quest'oggi fatemi sapere la vostra riguardo il trailer questo gameplay vi ha intrigato vi ha interessato magari eravate come me quelli che credevano poco in phantom blade e adesso tornano un po' a sperarci insomma ditemi la vostra nei commenti che sono molto curioso questo comunque era tutto quello che avevo da dirvi quest'oggi grazie per avermi seguito e noi ci rivediamo in un prossimo video a Grazie per la visione!